Cantare in coro è un'esperienza che tutti i cantanti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. Condividere la musica con gli altri, sentirsi parte di un'unica grande energia vocale non è solo emozionante, ma è anche terapeutico. Cantare in coro però comporta anche diverse sfide per la nostra voce, non è poi così semplice come potrebbe sembrare. Se cantate in un coro o avete intenzione di farlo, oggi siete nel posto giusto perché vi darò 5 super consigli più uno per cantare bene in coro. Mi raccomando guardate tutto il video perché ho questo consiglio speciale da condividere con voi alla fine, una dritta imperdibile, in modo che anche in mezzo ad un coro di mille persone possiate distinguere chiaramente la vostra voce. Numero 1. Estensione. Scegliere le parti adatte alla propria vocalità e al proprio timbro. Che si tratti di un coro di musica classica o di musica moderna, le classificazioni delle voci in un coro sono sempre necessarie. Per capirci stiamo parlando della classificazione vocale secondo cui le voci femminili si suddividono in contralto, mezzo soprano e soprano e le voci maschili in basso, baritono e tenore. Classificare le voci all'interno di un coro è fondamentale perché ogni tipo di voce ricama, per così dire, un suo disegno armonico all'interno della musica, che si va poi ad intrecciare con gli altri. Quindi, quando entrate a far parte di un coro per prima cosa, dovete verificare con il direttore del coro qual è il vostro tipo di voce in base all'estensione e al timbro, per definire appunto quali sono le parti vocali più adatte a voi. 2. Il volume. Fonditi vocalmente con il tutt'uno del coro e non cantare come un solista. In un coro cantare più forte per emergere è proprio la cosa più sbagliata da fare. Questo è quello che farebbe un solista, giustamente, ma nel coro il contesto ti chiede di essere parte dell'insieme. Quindi di non prevaricare, di mantenere un volume coerente con quello di tutti gli altri. Anche quando la tentazione di cantare più forte, soprattutto per sentire meglio la propria voce, può essere tanta. Quindi, occhio e volumi, nel coro non ci sono prime donne. Una volta trovato un volume adeguato, state anche attenti a non usare solo quello, perché le dinamiche sono anche quelle molto molto importanti all'interno di un coro. Per dinamiche intendo proprio i cambi di intensità, dati dal crescendo e dal decrescendo delle parti vocali. Sono importantissime. Un coro che canta in un modo piatto è una delle cose veramente più tristi del mondo. Quindi non trascurate mai questo aspetto e seguite sempre le indicazioni scritte nella parte musicale, se ci sono, per sapere quando aumentare e diminuire il volume, ma soprattutto fatevi guidare dal direttore del coro e dei suoi movimenti. Al primo dubbio andate a chiedere chiarimenti e prendete nota. 3. Intonazione perfetta. Arriva preparato e migliora la tua intonazione studiando da solo. Una delle più grandi sfide del cantare in coro è quella di essere perfettamente intonati. Una stonatura in coro significa proprio penalizzare tutti, soprattutto nei cori che non sono diciamo enormi, quindi nei cori un po' più piccoli, perché inevitabilmente la nostra nota stonata andrà a cozzare con le voci perfettamente intonate degli altri, creando poi quella frizione armonica per cui il coro intero sembra stonato. Come dicevo, più il coro è grande e più l'errore si perde un po' in mezzo alle altre voci, però se il coro è costituito da cantanti poco esperti c'è sempre quel pericolo che, se sbagli tu, allora anche magari quello vicino si fa trascinare e ti segue e parte un effetto domino di stonature disastroso. Quello che vi consiglio è di provare molto molto bene le vostre parti da soli prima di cantare poi nel coro, usando magari un piano, una chitarra per verificare bene, bene bene l'intonazione, ripetendo i passaggi difficili più e più volte, rallentando le parti per studiarle meglio. Spiego esattamente come fare a migliorare l'intonazione in questo mio video che ti metto in descrizione anche qui. Quindi, quattro, timing e ritmo. Essere sempre sincronizzati cantando anche nelle sfumature. Quanto è brutto quando senti cantare un coro e li senti che attaccano chi un pelo prima, chi un pelo dopo. E lo stesso vale per i finali di frase, quindi chi finisce un attimo prima, chi non aveva più fiato, chi invece ci provava gusto magari a fare quella nota e se la tiene un po' di più. Tutti insieme vuol dire tutti insieme, come nel nuoto sincronizzato, tanto per capirci. Questo che vi voglio mettere adesso è un esempio meraviglioso di questa idea di tutti insieme, no? Il coro dello Zecchino d'Oro diretto dalla grande Marielle Ventre, che era una grandissima direttrice di coro in grado veramente di far sentire ogni attacco e ogni uscita di frase come se fosse un'unica grande voce. Il direttore di coro ha la responsabilità di essere molto molto chiaro con attacchi, scansioni, finali, ma poi ovviamente chi canta deve rimanere concentrato nel seguire le sue indicazioni religiosamente. Nei cori piccoli è anche molto utile guardarsi, no? Per sincronizzarsi con il labiale degli altri. Anche nei duetti questa regola può essere molto molto utile. Cinque. Il timbro. Essere neutri e in stile. Mettiamo in tasca la personalità in senso buono, eh? Usare una vocalità troppo personale o voler dare un'interpretazione unica e diversa di ciò che cantiamo va bene se siamo solisti. Anche qui abbiamo una grande differenza tra il cantare come corista e come solista. Se siamo in un coro è come se sacrificassimo un po' della nostra personalità vocale per contribuire, come si può dire, a uno scopo più grande. Generalmente quindi si cerca di essere neutri nel timbro e usare un'impostazione, uno stile correlato al genere che si canta e non ai gusti personali, diciamo, di ognuno. Se ascoltando queste cose che ho detto senti emergere un po' dal profondo un certo fastidio, può darsi che l'esperienza del coro non sia proprio adatta a te, che tu sia più un solista puro e debba cantare solo alle tue condizioni. Però l'esperienza del coro te la consiglio lo stesso perché per crescere come cantanti ogni tanto abbiamo bisogno proprio di farci un po' di violenza, uscire dalla nostra zona comfort e metterci in situazioni un po' scomode. Quindi provare per credere. Seguendo questi cinque punti vi assicuro che canterete molto meglio e con più soddisfazione in qualsiasi tipo di coro. Molti di questi punti che abbiamo visto però sono difficili da eseguire se non sentiamo chiaramente cosa stiamo facendo con la nostra voce. E' uno di quei grossi problemi che mi scrivete in tantissimi e che conosco molto bene che si hanno quando si canta in coro. Proprio quello di non sentire bene la nostra voce perché il suono delle altre voci la sovrasta. Ed è per questo che a volte poi siamo poco intonati, tendiamo a cantare troppo forte o abbiamo un suono sgraziato. Ed eccoci quindi al trucchetto che vi avevo promesso per sentire la vostra voce in mezzo a mille altre senza uso del microfono. Vi sarà capitato di vedere i cantanti che mentre cantano tengono una mano all'orecchio, no? Così. Come diciamo se volessero ascoltare più intimamente la nota che stanno eseguendo. Bene, questo gesto ha una precisa ragione tecnica, non è un gesto casuale. Soprattutto quando si è in mezzo ad altri strumenti, chiudere l'orecchio significa proprio isolare la propria voce dal resto e quindi percepirne meglio l'intornazione. Provatelo quando magari non riuscite a sentire chiaramente quello che state cantando e poi mi raccomando fatemi sapere subito nei commenti com'è andata. Per finire ricordatevi che anche per cantare in coro avere una voce allenata e fare un buon riscaldamento vocale è molto importante. Se non sapete da che parte cominciare, vi consiglio di dare un'occhiata a Vocal Routine, il mio nuovo programma di allenamento in 21 giorni con i migliori esercizi della tecnica vocale moderna e straordinarie Vocal Routine già pronte per migliorare la voce in modo pratico e veloce. Vocal Routine è un sistema di allenamento vocale facile da seguire che richiede un impegno di soli 10 minuti al giorno. Molti miei allievi lo hanno già usato con successo e in questi giorni lo potete trovare ancora ad un prezzo incredibile che lo rende super super accessibile a tutti. Correte a scoprirlo e approfittate dell'offerta prima che scada. Trovate il link in descrizione anche qui. Bene, adesso avete 5 super consigli più uno da mettere subito in pratica per cantare meglio in qualsiasi tipo di coro con ancora più sicurezza e perché no anche con molto più divertimento. E se vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando vi aspetto, un grande abbraccio al prossimo video. Mua! Grazie a tutti.